Le scuole sul territorio di Castellabate restano chiuse a deciderlo con la firma dell'ordinanza numero 65 e il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Ho appena firmato l'ordinanza numero 65 che proroga dal 9 dicembre al 22 dicembre la sospensione delle attività scolastiche in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria. È stata una scelta difficile e sofferta ma motivata dalla volontà di non vanificare i risultati raggiunti in termini di contenimento del rischio contagio anche a causa di una maggiore mobilità e pericolo di assembramenti considerato il breve periodo di apertura. È evidente che un provvedimento ancora una volta così drastico non deve essere vanificato da altri comportamenti poco responsabili. Pertanto vi invito ora più che mai al rispetto delle regole e a evitare condotte poco consone al momento. Ad appoggiare la decisione della Maiuri è anche l'assessore alla pubblica istruzione Elisabetta Martuscelli. Una scelta difficile ma motivata dalla volontà di non vanificare i risultati raggiunti in termini di contenimento del contagio anche a causa di una maggiore mobilità e pericolo di assembramenti considerato il breve periodo di apertura. L'auspicio e la raccomandazione è quella di non rendere vano. Quanto fatto fino ad ora, restiamo responsabili, conclude l'assessore.